in zona torraccia a pesaro c'è un ristorante che accontenta sempre tutti e piazzarici buonissimi piatti di carne e pesce un ampio spazio a tua disposizione servizio da asporto e possibilità di vedere le tue partite preferite prova la nostra pizza cotta nel forno a legna è preparata con impasto di farina macinata a pietra a lunga lievitazione inoltre altamente digeribile perché a bassissimo contenuto di lievito piazzarici ha un ampio spazio per le vostre cerimonie cene di famiglia compleanni e cene aziendali vieni a nome di rossini tv per te una pizza gratis